Facciamo che la intro, la facciamo come la facciamo sempre Ciao a tutti ragazzi, come è Gozzo, come state? Bentornati in questo nuovo video Vedo dalla data del computer che è passato un cazzo di anno, scusatemi il francesismo È passato un anno Allora, innanzitutto vi dico al volo una cosa Come state? Spero che stiate benissimo Non voglio farvi illusioni, cioè io sono qui perché faccio questo video, perché mi va Molto probabilmente ne farò altri nei prossimi giorni, infatti sto già cercando di capire Ma non sarò costante, ve l'ho detto, ve lo dissi anche negli ultimi video Perché come già sapete purtroppo lavoro, faccio altre cose, ora sto anche studiando E quindi YouTube l'ho un po' allontanato Poi diciamo adesso ho avuto un attimino un momentum di idee che è schizzato su E quindi ho deciso di fare questo video e come ho detto ne farò molto probabilmente altri Quindi sicuramente mi farà molto piacere se i video li guardate e li seguite Questo è giusto per ricordarci i vecchi tempi e stare insieme Una cosa che volevo dire è che ho detto, innanzitutto non vi gasate troppo Perché non so quanto potrei durare, potrei fare un video a settimana Un video ogni due settimane Ok, il sabato e la domenica un pezzo di video me lo ritaglio anche perché ora è zona rossa E io esco comunque perché comunque devo andare dal cane In ogni caso il tempo lo sapete per tanti motivi, cioè non ne ho tantissimo Poi vogliamo, ve lo dico, GTA è tipo crashato, ho perso tutte le mod Ho dovuto rimettere tutto e non ho manco rimesso tutto, sto cercando di rimettere tutto Questo è uno dei tanti motivi per cui anche non ho fatto video Infatti chi mi segue su Instagram sa che ho fatto il delirio e stavo impazzando Poi ho avuto ennesimamente, l'ennesima volta i problemi anche con altre persone Ve lo dico chiaro, ragazze, quindi sempre quello del problema C'ho tutto questo problema, no? E non ce posso fare niente Quindi motivo per cui facciamo oggi questo video E io spero che vi piaccia perché il nostro Ronaldo Junior è tornato Nuovo episodio della vita reale da bambino So che siamo Cristiano Ronaldo ma adesso stiamo un attimo qui Perché faremo un attimo una cosa e poi passiamo a essere subito Ronaldo Junior Allora, il fascio comunque della storia principale si era un attimino sfasato Ve lo ricordo al volo Cristiano Ronaldo stava bene, Ronaldo Junior stava bene, aveva particolari problemi Ha avuto il covid e fortunatamente guarito E siamo qui, siamo venuti con Giorgina, vedete Simon e ovviamente il nostro figliolo Ronaldo Junior e abbiamo portato una Ferrari Perché se ben ricordate, mi hai chiesto un'occhiata L'ultima volta Ronaldo Junior, la Lamborghini Supreme Quella, ve la ricordate, quella tutta rossa con la scritta Supreme e l'LV, no? Perfetto, ve la ricordate, è stata storica con l'auto nella mia serie Abbiamo deciso di non metterla mai più Perché ogni volta quell'auto ha causato solo guai È stata rubata, Ronaldo Junior la prendeva in prestito senza dirmi niente, senza patente Insomma, capite, no? Vorrei evitare che succedesse la stessa cosa Però quell'auto mi piaceva troppo Quindi insieme a Ronaldo Junior abbiamo deciso di portarla qui E il meccanico sta valutando se su questo modello o su un altro Perché questo era, vi ricordo, già in nostro possesso dall'inizio della serie Stiamo valutando se è possibile verniciarla e farla in quel modo particolare A meno che magari riservirebbe un altro modello Ora non lo so questo La cosa bella che voglio farvi notare, ragazzi E che nonostante io abbia perso tantissime mod Una delle cose bellissime che sono riuscito a fare È mettere la mascherina anti-covid a Cristiano Ronaldo Infatti, vedete? Ha una mascherina che tra l'altro non è manco baggata dietro le orecchie È perfetta Probabilmente è perfetta Ovviamente lui è il main character della serie, ragazzi Quindi sono riuscito a mettere ovviamente solo a lui Detto questo Allora, figliolo, tu cosa devi fare? Io, ragazzi, adesso rimarrò qui con Giorgina Che ha preso a fumare Era tutta ragazza pane casecchiesa Adesso l'ha presa a fumare Schizzo di 10 minuti Quindi, sai, non si può fare Sta macchina non si può fare Perché io la vorrei Allora, ragazzi Siamo Ronaldo Junior E come prima cosa Io e Ronaldo Junior vi vogliamo salutare Quindi, Ronaldo Junior saluta Spero che state tutti bene Perché comunque è passato tanto tempo Finalmente possiamo vivere insieme le nostre avventure Allora, ragazzi Tanto che papà è impegnato qui con la mamma Io ho in mente una bellissima cosa Papà ha appena comprato Cioè, lei che ha appena comprato C'ha una Lamborghini a venta Ad ora a casa Che non utilizza mai Allora, io stavo pensando Di andare a fare un megagiro con Albert Albert, ve lo ricordo, ragazzi Era il nostro migliore amico Quindi, intanto che lo stanno qua Papà, io me ne vado Allora, ragazzi Come ben ricordavate Questa è la casa storica, no? Di Ronaldo Dove siamo stati tanto tempo Ed è qui dove comunque ancora viviamo Però io, come vi ho anche già detto Farò degli altri video Sicuramente compriremo una nuova casa Avremo... Ci sarà un nuovo episodio Sulla nuova macchina Ci saranno tante altre cose Quindi vi sto già un po' spoilerando Che faremo qualcosa insieme Io, Ronaldo Junior e gli altri Ragazzi, lui e Albert Penso ve lo ricordate Ci siamo visti qui Bene, allora io direi Che possiamo partire Papà, c'è questa Lamborghini Che ora lo faccio dire Sta fuori Bene, ragazzi Allora, vi ricordo Che questa si chiama vita reale Come è sempre stato all'inizio E il gioco ci sta dicendo Che siamo dei idratati Quindi dovremmo andare Albert, andiamo al Burger King Lo siamo andati come al solito Ma sì, andiamo là Andiamo lì, ragazzi Ci andiamo a divertire Questa nuova Lamborghini Avento Di papà Papà mi ha anche detto Che sta pensando Di comprare addirittura Vabbè, intanto usciamo Sta per avere forse Una Lamborghini personalizzata Ed è la terzo millennio Che è addirittura Tutta futuristica Cioè, nel senso Ragazzi, noi qui Vedete, è tutto comunque Sì, digitale No, qui non è digitale Però, ultimamente Diciamo, le Lamborghini Sono state digitali Con il conto a chiamati digitale Mentre questa qua Dice che sarà totalmente diversa Nato Junior Però la patente Mi sa che tu Non la vuoi prendere Nella vita tua Entriamo Andiamo a mangiare qualcosa Vieni Ora beviamo sicuramente qualcosa Al volo giusto Per non perdere tanto tempo Tempo che si rigenera La barra della salute Tanto mangiare Vabbè, mangiamo anche un panino E andiamo Da qualche parte Dove andare a divertirci Assolutamente È troppo tempo Che non facciamo niente Ok ragazzi Abbiamo finito L'altra figata Di cui volevo Assolutamente parlare È che Guardate la minimappa È diventata 3D Esattamente come quando Mettiamo il menu di pausa E ci sono tutte Insomma c'è la mappa satellite E' un'altra cosa bella Che abbiamo aggiunto Allora Dicevamo Dovevamo andare In giro A qualche parte Andiamo a farci un giro Anche perché Si vedete Zona rossa Ragazzi C'è comunque Un sacco di gente in giro Però ho sentito Che il sindaco di Los Santos Nei prossimi giorni E quindi Ci sarà sicuramente Un bellissimo video a riguardo Vuole mettere Assolutissimamente Una Zona rossa Rinforzatissima Dove Chi uscirà Cioè veramente Guardate Quello Cioè Magari tu fermi uno di questi Ma tu che stai facendo in giro Magari c'è tutta questa gente Che Cazzeccia per dirvi No E Ronald Junior È molto tentato A non rispettare I comandi stradali Però Ronald Junior Ti lascio dire Che così la patente Non la prenderei mai Cioè È incrementato il traffico E vabbè Dai era rosso Passiamo lo stesso Perché Quando guidate una Lamborghini Cioè Se siete Ronald Junior Non potete rispettare le regole stradali Ronald Junior C'è il rosso Fermati In zona pedonale Non puoi andare Madonna Lo stadio vecchio ragazzi Non esiste più Esiste uno stadio nuovo Che è quello lì Che è anche quello Dove si allena la nostra Juve Che è la scuola di nostro padre Ronald Junior Così mentre Oddio Mo chiameranno la polizia C'è il zona rossa Tutte queste persone Non potrebbero stare tecnicamente in giro Ronald Junior Per rispettare tutte le regole Pianco No Oddio Madonna Ha messo sotto un cristiano Oddio Finirà male Io lo so che finirà male Vabbè In ogni caso Forse è meglio andare in tangenziale O da qualche parte Vedete ragazzi In questo video Vi sto presentando Tutte le novità Che ci saranno Vedete Quello è il nuovo stadio E' lo stadio dove si allenerà il papà E comunque hanno messo le nuove docce Molto più grande C'è un sacco di roba nuova Comunque Sì stanno dicendo di andare in autostrada Ma Ronald Junior Che stai facendo? Dove stai andando? Oh mio dio Oh mio dio Ha messo sotto una persona Ha messo sotto una persona Ecco Ecco Si è ricercato a una stella Io ho detto che arrivava la polizia Forse è meglio Evitare di fare certe cose Dai Guarda che ammaccatura Non vengono rispettate E non vengono rispettate E non vengono rispettate Manco adesso Che era un altro junior E' diventato forse Due anni più grande Rispetto a prima Non lo so Ma comunque Guardate Lamborghini ragazzi Come cavolo sfreccia Cioè se non sfrecciamo qui Dove dobbiamo sfrecciare? Basta che non muori E non ti fai arrestare Che Cristiano Non sa niente Ok Siamo riusciti a seminare La polizia Penso di sì E Dicevo Ci sono tantissime novità Che stanno per arrivare E Macchine Case Episodi speciali Personaggi nuovi Cioè Tantissima roba Vai di qua Tantissima roba Quindi ragazzi Non perdete Successivamente I prossimi video Perché ci sarà divertirsi Adesso spingiamo al massimo Questa Lamborghini Vediamo quanto riusciamo ad arrivare Oddio Guarda non caricano Manco le text Per quanto stai andando veloce Madonna Madonna La scarsa La scassata Ci prendiamo Ehi scusa tizio Ci metti Ci dai una coca cola al volo Che dici Secondo voi ce la dà una coca cola Ci dai una coca cola al volo No secondo me non ce la dà Ah ecco Andiamo al mcdonald Che è qui la prossima uscita Vabbè Dai andiamo al mcdonald Oddio Vegami ho della pepsi Due vicini all'altro Io non ci credo Chissà quanta pepsi che portano Vabbè Ragazzi Vando un giro nel pazzo Allora Siamo Riusciti a Scassare Totalmente Una Lamborghini Aventador Viola Metalizzata Da 600.000 dollari Oddio Piano Piano Mi sa che dovevi andare da Simon Ragazzi la facciamo così Papà non doveva saperlo Erano Un anno e mezzo Che Ronaldo Junior Non guidava una Lamborghini Perché comunque Non giocando più Ragazzi Ronaldo Junior Non guidava più Quindi forse è meglio andare Velocemente da Simon Sperando che papà Se ne sia andato E gli diamo Facciamo niente tra una giusta Perché se no Se ci vediamo così Papà ci spezza le gambe Assolutamente Ronaldo Junior Ma basta Piano Ma stai andare piano Sì che i Lamborghini Corrono Un'accelerazione da Madonna Però piano Ah piano Bravo Bravo Eh bravo Non mettere sotto E meccanico Mannaggia Ecco Piano Ragazzi Simon dice che non siamo cambiati Di una virgola Non ci vediamo da un po' Ma la zona La quarantena Il covid Non mi ha cambiato Infatti mi invita anche a portare La mascherina Che non porterò mai Perché Ronaldo Junior Ragazzi Non crede nel coronavirus Ronaldo Junior Crede che il coronavirus Sia un complotto del governo Contro di lui Ah vabbè Dice Simon che ci aggiustava Lamborghini Quindi ragazzi Dobbiamo aspettare Perché non possiamo Tenere a casa senza E papà Spero di ritornare Prima a casa di lui Vabbè Comunque ragazzi Diciamo che il video Di oggi è finito Ci siamo divertiti un po' A scassare La Lamborghini Aventador Di papà Che tra l'altro Era nuova Io veramente Vi invito a non perdere I prossimi video Ragazzi Perché Già non ne faccio tantissimi Non vi garantisco Manco che li farò Magari se farò Una settimana O quando riesco E Quindi Mi raccomando Seguitemi Guardate i video Con i nostri amici Perché in ogni caso Io ne farò veramente Di altri molto belli Perché già ce li ho in mente Quindi mi raccomando Se il video vi è piaciuto Mettete un like Iscrivetevi al canale Che siamo quasi a 400 100.000 iscritti Dai arriviamoci Ce ne mancano 10.000 Non ci vuole niente a farle E ovviamente Seguitemi su Instagram Antony.Rossi Sui test Salutati nei prossimi video Qui è Simon Disperato E Ronaldo Junior Lamborghini Ragazzi Sono tornato Che vi devo dire Divertiamoci insieme Finché abbiamo possibilità E ci vediamo Tutti quanti al prossimo video Ciao